Il rapporto tra i cittadini e il fisco non sempre è conciliante e rassicurante, anzi spesso è teso e conflittuale. Colpa soprattutto di un sistema vessatorio che finisce per penalizzare i contribuenti che hanno la sensazione di avere perennemente una sorta di spada di damocle sulla loro testa. La riforma fiscale introdotta dal governo centrale ha l'obiettivo ambizioso di provare ad accorciare l'enorme gap tra le due parti riportando un minimo di serenità. Fondamentale in tal senso diventa il ruolo dei dottori commercialisti. L'argomento è stato al centro di una tavola rotonda promossa da Unitre Nardò, l'università delle tre età, dal titolo Il ruolo del commercialista, volano del territorio e interlocutore privilegiato tra fisco e contribuente. Siamo particolarmente contenti di essere qui ospiti questa sera di Unitre a Nardò che ha voluto dialogare con i commercialisti per comprendere anche quello fino in fondo, diciamo quello che è il rapporto e quello che è il contributo che i commercialisti possono dare nel migliorare il rapporto tra il fisco e il contribuente. È inutile dire che la pressione fiscale in Italia è molto alta, è inutile dire che sicuramente non si pagano le tasse a cuor leggero ma tutto sotto questo profilo crediamo di offrire in questo momento, stiamo offrendo un grosso contributo perché le riforme fiscali vadano alla direzione di avvicinare le due posizioni e che quindi si possa stabilire una soglia di pagamento delle imposte che sia condivisa anche dai singoli contribuenti e questo sicuramente può contribuire ad avvicinare queste due parti. All'iniziativa hanno preso parte anche Luisa Cruzi, presidente della Fondazione Messapia, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di Salvatore Pellegrino, presidente di Unitrenardò. L'incontro è stato moderato dal commercialista Antonio Tondo.